Ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta denominata Qatargate. L'europarlamentare italo-belga Marc Tarabella ha omesso di dichiarare una consulenza fatta in loco per il Qatar nel 2020, a rivelarlo il suo avvocato. Tarabella al momento non è indagato, anche se la polizia ha perquisito la sua abitazione nel dicembre scorso. Per colui che era il braccio destro di Antonio Panzeri, il Parlamento di Strasburgo sta valutando la revoca dell'immunità parlamentare. A inizio inchiesta è stato comunque sospeso dal Partito Socialista. A sei settimane dalla divulgazione dell'inchiesta in Belgio, gli investigatori procedono nella ricostruzione della rete di complicità che avrebbe garantito a Qatar e Marocco di influenzare le decisioni politiche del Parlamento europeo. Parlamento che sta mettendo a punto una proposta contro pratiche corruttive all'interno dell'Eurocamera.